Benvenuti in questo video, io sono Gennaro95 e siamo su Traficiam Carpazzo Legend Siamo a livello 201, a livello 210 si aprirà la nuova zona che mi darà altre cose E siamo qua per registrare i video, adesso vi registrerò due video di Traficiam Carpazzo Legend Due di fila Perché Se ne hai bisogno Perché assolutamente non andrà avanti, adesso vi faccio vedere il motivo, vi faccio vedere Clicco un tasto e vediamo il motivo, non questo qua con il sund che non so se si sblocca O se andiamo a fare un aggiornamento per ottenere questa cosa qua In questo video vi parlerò un po' più forte, in questi video di Traficiam Carpazzo Legend Invece gli altri parlerò un po' più basso perché tanto l'audio è alzato quindi dovrai sentire lo stesso Ma in questo dovrebbe sentirsi l'audio basso E non so se questo si sbloccherà quando vi ho finito la moneta normale O è una cosa che devono ancora aggiornare, devono ancora aggiungere Lo vedremo se capiterà Se giochiamo ancora perché non è detto Ma la cosa che vi devo far vedere È questa Vedete Io sono a livello 200 42esimo Che nello scorso episodio vi ho fatto vedere che ero 11esimo Anzi non è che vi ho fatto vedere, vi ho detto che ero 11esimo Non volevo farvi vedere la classifica però Pensando che quelli in classifica dopo si Aumentassero i loro trofei I loro livelli Per allontanarsi da me Perché io li stavo raggiungendo E sono andati via comunque Quindi non stanno guardando i miei video Non credo che stiano guardando i miei video ma Devo arrivare a quel livello per arrivare primo Quindi non so quanti livelli ha questo gioco Io vi faccio episodi fino a finire la serie però I livelli sono tanti E quindi non so quando terminerò Quindi volevo dire questa cosa E partiamo dal 201 perché abbiamo da recuperare un sacco di giocatori E il prossimo chi è? Aspetta fa vedere Il prossimo dopo di me Che livello è? Perché non tutti sono a quel livello là Ah 202 Poi io ho 41esimo Eh devo farne di strada Per arrivare su eh 201 Filted broken card Quindi per questo vi registro due video a settimana Alternando con cookie grades Perché anche quello voglio portarlo avanti Però lì non c'è un tempo Lì posso giocarci quando voglio Cioè devo sbloccare i livelli Infatti in questi giorni non vi registro cookie grades Perché sto facendo dei progressi Quindi devo andare avanti Allora io direi che il verde Te lo metto Te lo metto qui Per il si sveglia la gialla Devo riparare le auto Questo è l'obiettivo Non è riparare le auto Devo riparare le auto Gialla la mettiamo qui Un'altra gialla? Ok Mettiamola qui Con il metallo rossa Dopo la gialla si accoda lì dietro Eh però le auto sono bloccate lì in mezzo Questo mi dà molto fastidio Vai accoppiatevi Perfetto Rossa Rossa la mettiamo qui Ora fa due giallo Ok adesso facciamo tre giallo Un'altra gialla Ok un'auto riparata Se ne manca una Che mi salve le rosse Magari sempre le rosse Altre due rosse Ah caro Trezzi Eh caro Trezzi Eh caro Trezzi Eh caro Trezzi Potrei buttarla Le 18 Solo che Eh Solo che Cioè se potessi buttarla direttamente Sulla macchina da riparare Secondo me Mi farebbe un bel piacere Però secondo me Io pensavo come diventare l'autobus Invece no Su giallo A questo punto Ok Quindi quella si sposta Le vende due rosse Giallo la mettiamo qua Un'altra gialla La mettiamo qua Ora se mi da solo rossi Se mi da solo rossi La facciamo Rosso Ve le serve un altro eh Rosso Rosso Ok Ce l'ho fatta Incredibile Ok Ah Naturalmente se avrò le vite Vi faccio un altro video Dopo questo Di Tre figli Macapazzo Legend Se no vi faccio Solo un video Ah l'ho prende la moneta Allora Mettimi un attimo in pausa Ci vediamo dopo Ecco la moneta E l'ho vinta 140 monete Mi serviranno le monete Secondo me 202 Stiamo facendo progressi Aspetta ma io Adesso che sono 202 Sono salito in classifica Ah no 201 fatti Quindi per Soprarlo Devo fare 202 O poi pareggiare Con lui Help Eterricotters Anche se lui Ha fatto più stelle Lui ha fatto più stelle Quindi secondo me Sì No Ho fatto più io Stelle Quindi se io faccio Il livello 201 O 202 Ah il 202 E Prendo Prendo la sua posizione Eh però devo 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 passarlo Il livello Help Eterricotters C'è quello di fare Il video un po' più lunghini Oh tre semafori Eh tre semafori Sono un problema Con i container Pensa se ci sono i semafori Dentro i container Ti rendete conto? Vi rendete conto? C'è incredibile Giallo Giallo È tutto bloccato Posso mettere qua Non di più Però quando si sposta La verde La gialla va dentro Quindi forse Faccio la mossa Ok questo diventa rosso Diventa verde Vuol dire Eccolo si attiva Adesso va Va quello Oh che combo Semmafori Madonna che combo Guarda che combo Guarda da che roba No Sei pazzo Le auto Devo levarle tutte Perché mi servono Tutti i tre posti La mettiamo sul verde A questo punto Perché mi serve Levare quel verde Rosso Ok Audubus Lo mettiamo sul verde Assolutamente Verde lo mettiamo qui Che liberiamo Giallo Ok un posto liberato Ora devo solo Allineare gli altri E poi sono a posto Eh mi dai il rosso Eh rosso lo butto via Mi serve un verde Ok verde Adesso mi serve due verdi E due rossi Ma dovrebbero uscire Credo Ok dai dammi il verde Un altro verde Ok fatto E l'elicottero arriva Ora il rosso E l'altro elicottero arriva Ho giocato bene Ho giocato bene Perché ho fatto Una mossa incredibile Ho fatto una comba Allucinante Di Sette macchine Credo Sette macchine gialle È incredibile Rimuovi la neve Adesso L'ho passato Adesso Sei 41 Ok l'ho passato Sono a 41 Adesso Eh provo ad arrivare primi Cioè il primo Che si fa Guarda quanti livelli Ho fatto I primi 4 Ho fatto tanti livelli Gli altri Sono un po' più bassi Però già Adesso 800 livelli Tanta roba 203 Rimuovi la neve Eh rimuovi la neve Dipende com'è Ah è tutta bloccata Lì in mezzo Mmm È un casino Allora rossa Non posso mettere Lì sopra Perché il rosso Ce n'è solo uno Di spazio E quindi farei due rossi E non farei il terzo Io direi che lo mettiamo qua Il rosso Giallo Giallo Ah beh il rosso Potevo mettere anche il laterale Vero Vabbè comunque In realtà serviva anche lì Quindi cambia niente Anche se dovrei liberare Quello centrale Prima Giallo lo mettiamo qua Che Appena si libera lì Ecco tipo verde Adesso Adesso fa tre gialli No Il giallo si è staccato Pensavo che andasse vicino L'altra Verde Eh verde C'è la quella bloccata In mezzo E questa qua Gialla Facciamo quattro giallo Ok L'autobus Lo mettiamo sul rosso Bravo Autobus Rosso Ora i verdi Posso metterli in mezzo Però il verde Prima la sbloccare Più dopo diventa Ottimale Verde lì Rosso qui Giallo Giallo qui Il rosso Lo mettiamo qui Il verde Lo mettiamo qui Ora si è libera La macchina Un altro verde Eh questo è difficile Come livello Rosso Eh beh adesso Non posso più Abbinare niente Rosso lo mettiamo qua Ma fa poco E niente Mi tocca rifare il livello Retri Vediamo quanta vita Possiamo avere Eh qui Vorrei farvi due episodi Ma non so se li ci riesco Perché se hai perduto le vite qua Non riesco a farvi L'altro episodio Magari l'altro ve lo giusto Il giorno dopo Potrei fare così Allora con la verde Si sposta prima Quindi Mi frega Fa il contrario Praticamente Quindi la verde Faccio che Buttarla via A questo punto Facciamo la rossa Così La verde se ne va Ok Giallo lo mettiamo qui Il verde Lo mettiamo qui Giallo lo mettiamo qui Ok Il set di neve Ah è tornato indietro Verde qui Rossa la mettiamo qui La gialla la mettiamo qui La verde la mettiamo qui Un'altra verde Ok Ok Guarda mi serve Un rosso e un giallo Giallo lo mettiamo qui Il rosso lo mettiamo qui Il verde lo mettiamo qui Il rosso lo mettiamo qui Il rosso lo mettiamo qui Il rosso qui Autobus Eh te lo metto sul giallo Ma mi serve un'altra auto Mi serve un'altra auto Se no non faccio quello Eh non ce la faccio Troppo difficile Si riproviamo A me non riesco a battere Il livello Siamo a voi Però Se no mi da le auto giuste Andiamo poco lontano Quella gialla lì Si sposta Quindi La possiamo fare Andare via subito Tanto Se deve andare via Va Eh non è che possiamo Obbligarla A rimanere lì E se deve andare via Giallo Altro giallo Grazie Perfetto Ora due verdi Mi devi dare Grazie per il verde Un altro verde Rosso Rosso Ah devo metterla lì Ho sbagliato Eh ho sbagliato L'osso la mettiamo qui La verde qui La gialla Qui La rossa lì dentro La verde qui La gialla qui La rossa dentro Ok Verde O le rosse si spostano Si spostano i gialli Eh ma ho troppe macchine Non va bene Rosso Giallo Tutti colori diversi Verde E rosso Mi manca una verde E una gialla Solo che Non me la date Eh ho presso le vite Che posso fare Mi sa che ho deciso Solo un video Perché Sto prendendo tutte le vite E io voglio provare A battere insieme a voi Però qua è difficile Non è un gioco per i bambini Questa Quindi pensate Non sia un gioco per i bambini Perché non è un gioco per i bambini Questa La rossa te la metto qui Un'altra rossa Dammi la verde Grazie Ok Quella se ne va La gialla la mettiamo lì Adesso la rossa Può fare avanti e indietro Fatto Rossa qui La verde la mettiamo qui La gialla la mettiamo qui La rossa la mettiamo qui La verde la mettiamo qui Ok Che peccato che non Non l'abbini anche la neve sotto Perché sennò L'avrei fatto Verde Giallo Rosso Possiamo due gialli Giallo Verde Autobus Eh però non riesco a fare quello Manca una rossa E non ho più mosse Quindi Ho che uso le monete Ma Non vorrei usare le monete adesso Assolutamente Ditemi nei commenti Se potete vedere ancora L'episodio di questa serie Perché se ci fermiamo così Diventa lunga La verde la mettiamo qui La gialla la mettiamo qui La rossa la mettiamo qui E dividere due gialle Gialla qui Rossa La mettiamo qui Verde Di me che si sposta quella Prima Ok grazie Galla Dammi la rossa adesso Grazie Altre due rosse Grazie Galla Mettiamola qui allora Verde Rossa Verde Autobus Te lo metto Sul verde Però Potrei usare la polizia Ma Non voglio utilizzare la polizia Gialla Ciao Che faccio io Che posso fare io Ah ho finito le vite Eh ho finito le vite Piaccia ma Ho finito le vite Vabbè siamo Fermati al 203 Adesso In questi giorni Magari Il giorno dopo Vedo se riesco A Tanto le vite si rigenerano Ogni 20-30 minuti Quindi Dover rigenerare le vite Provo a fare il 203 Se riesco a passarlo Vi registro subito un altro video Il giorno dopo E Proviamo ad andare avanti Vorrei passare il 203 prima però Perché se Lo passo in video Non ci riesco Devo passarlo off camera Se riesco a passarlo Ve lo registro Se no vi carico un altro video Sul canale Vedrete Vedete questo video qua Il mercoledì E La domenica avete visto un altro video Anche se questo Vorrei caricare uno domenica E uno mercoledì Però Per andare avanti No Perché se è in classifica Vedete qua Se è in classifica Io sono 41esimo Per arrivare primo Non so come Loro abbiano fatto Il primo È 1726 Quindi per raggiungere Charlie Coats Dobbiamo Fare tanti livelli Tanti episodi Dobbiamo andare avanti Con la serie Quindi scrivetemi Nei commenti Se questa serie vi piace Se volete vedere Il continuo di questa serie Se vi sta Intrattenendo Perché se non vi piace Non ha molto senso Portare avanti Anche se io vorrei Portarla al 100% Cioè Arrivare fino all'ultimo Livello E finire la serie Però se Non vi piace Potremmo fare Un po' meno episodio Magari fare un episodio Ogni mondo Che sblocco Così faccio vedere Un episodio a mondo E vado avanti Così Però Secondo me Fare un episodio a mondo Ok Va a finire Che Non Va a finire Che non appunto Non è Non è consecutivo Non c'è un proseguimento Pari Licio Che vi faccio vedere Tutto A parte i livelli Che non riesco a fare Come in questo caso 203 Devo farlo off camera Però Il prossimo episodio Siamo 204 Però Cioè Bisogna passarlo Il livello Quindi Non lo so Avete tempo Per dirmi Se volete Vedere altri episodi O se Questa serie Vi sta Un po' Stancando Secondo me Vi sta Stancando Però io Non voglio Lasciare la serie Incompleta Quindi Non fatemi Fare in modo Di lasciare la serie Incompleta E caricarvi Qualcos'altro Perché A me non piace Le 6 serie Incompleta Infatti Dopo Fra un po' Di serie Che avevo Caricato Su canale Vi prenderò Alcune serie Che ho già Fatto Su canale Per completarle Il più possibile Ok Va bene Dai Siamo fatte 203 Vi ho fatto Due livelli 201 202 Due livelli Fatti Almeno due In questo episodio Adesso vedrò io Di passare 203 Se riesco a passare Il prossimo episodio Facciamo 204 205 Circa 206 Anche dai 207 208 Se proprio Proprio 210 Ma Non penso Di arrivarci Subito Sono molto Difficili Le livelli Soprattutto Di livelli Rossi Quelli verdi Anche Anche Ma quelli Rossi Sono un po' Complicati Va bene Dai Io spero Che il video Vi sia piaciuto Mi diteci Un like Un commento Condividere Iscrivete Il canale E noi Diciamo Al prossimo A presto E una cosa Prima di chiudere Il video E Non avete forse visto A meno che Non registro Faccio dei vlog Però io non ho mai fatto dei vlog Quindi non so come funzioni Quindi avete tempo Per di Fino a marzo aprile Come dovrei registrarvi dei vlog Magari vi faccio dei vlog E vi possono piacere Che parto per un viaggio E magari potrei registrarvi Se parto Ancora non è sicuro Però Dovrei partire E Non so se Cosa Cosa farò Perché a quel punto Alcuni video Ce li ho registrati Quindi potrei caricarvi quelli Se sopravvivo Naturalmente Perché non è detto Che sopravvivo E E quindi dopo Dopo vi carico quelli E poi vi carico Cioè Poi Magari faccio qualche vlog Se mi piace Quindi avete tempo Per dirmi Fino a marzo aprile Se volete dei vlog Detto questo Noi ci vediamo il prossimo video E a presto Ciao